Ha bevuto te tutto il giorno. E la notte? Ha dormito in bagno. Alice rischia la vita cadendo in mare quando incontra il Capitan? Schettino. Hai mai visto i papaveri che cantano? Una volta. E cosa cantavano? Lo sai che i papaveri sono al pia al pia. Ah sì? E chi canta alla regina di cuori? Piero Pelù. Cosa mi rispondi se ti dico che oggi è il mio non compleanno? Che siamo allineati. E cioè? Non ti ho regalato niente io. Giovanotto, cosa piace al coniglio bianco? La carota albina. Allora, prima vedi solo le strisce, poi i suoi occhi, infine ti parla mostrandoti il sorriso. Cos'è? Un posto di blocco. E' lo stregato. E' lo stregato.